Ben ritrovati su MrGadget.tech, oggi torniamo a parlare di un argomento molto importante dal nostro punto di vista, il Wi-Fi. Benvenuti dunque su MrGadget.tech, ancora una volta vi faccio la solita richiesta e raccomandazione, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella e mettete un mi piace a questo video. Allora abbiamo detto reti Wi-Fi, sapete che per noi questo è un mantra importante, il modem, il router, l'access point Wi-Fi sono il cuore della nostra abitazione tecnologica. Dobbiamo affidarci a marchi che abbiano una grande esperienza, che abbiano una gestione dei dati assolutamente sicura e che possano garantire una qualità nella conversione che viene effettuata tra i dati utilizzati verso casa e quelli che vanno verso la rete. Davanti a me Fritzbox 7590 AX e il Fritz Repeater 6000. Non vi fate ingannare dal fatto che il loro aspetto sia simile a quello dei prodotti precedenti. In realtà Fritzbox 7590 è leggermente più grande nella versione AX rispetto alla versione normale. Anche il Fritz Repeater nella versione 6000 è leggermente differente come aspetto rispetto al modello precedente. Qual è la caratteristica specifica di questo dispositivo? La compatibilità con il Wi-Fi 6. C'è da dire una cosa importante, Fritzbox è un modem. Questa è una differenza non da poco, spessissimo vi vengono venduti degli access point. Questo invece è un modem vero e proprio che potete collegare direttamente alla rete DSL. Quindi se avete una DSL, una VDSL a casa. Anche la fibra fino alla cabina, quella che arriva nell'ultimo pezzo verso casa vostra con il rame, può essere utilizzato con questo prodotto. Non solo, c'è la porta che chiameremo ONE, quella che vi permette di collegare il terminale ottico della fibra fino a casa, oppure di collegarvi in cascata con il modem del vostro operatore, se preferite non cimentarvi nella gestione della sostituzione del modem. E poi avete le porte LAN, entreremo nello specifico, una connessione USB, c'è una seconda connessione USB anche laterale, e poi i tasti frontali con alcune funzionalità molto semplici, accendere e spegnere il Wi-Fi, nel caso vorreste farlo basterà premere un pulsante, e collegare anche eventuali altri dispositivi in modo davvero molto molto semplice. C'è anche il controllo del sistema DECT, perché un sistema Fritzbox è in grado di gestire anche dei telefoni collegati. Ne parliamo dopo. Allora, cominciamo con il Wi-Fi 6, che è un tema importante. È uno standard più efficiente nella gestione del Wi-Fi. Vuol dire che i dati vengono distribuiti in modo più ordinato su più corsie, dando la possibilità a tutti i dispositivi collegati di avere un accesso che sia affidabile e con una velocità costante nel tempo. La gestione proprio dei pacchetti di dati è estremamente più efficiente. Potete arrivare addirittura a connettere qualche centinaio di dispositivi all'interno della vostra casa direttamente ad un Fritzbox 7590 AX. Non solo perché questi due prodotti lavorano collegati l'uno all'altro con il sistema Mesh. Questo è un altro tema fondamentale. Un nuovo modem, un nuovo access point nel 2022, deve essere compatibile con lo standard Mesh. Cosa vuol dire? Che schiacciando questo bottone qui davanti e schiacciando questo bottone sul repeater nel giro di pochi secondi, vedrete tutte le luci che si illuminano e avrete esteso la vostra rete con lo standard Mesh. È ben diverso rispetto a quello che succedeva una volta con i repeater. Perché? Perché con lo standard Mesh mantenete una sola rete in tutta la casa, quindi una sola classe di IP. Vuol dire che tutti i dispositivi parlano tra loro. La velocità che raggiungerete anche negli angoli estremi della casa sarà sempre la migliore possibile. Provate a fare un test con il vostro modem collegato all'operatore. Guardate quale velocità vi viene riservata nell'angolo più remoto della casa quando siete collegati al satellite e vedrete con quale qualità vengono gestiti i dati. Una cosa importante, vengono ovviamente emessi due segnali contemporaneamente. Gli apparati passano automaticamente al segnale migliore a cui ci si può collegare. Questa è la magia del Mesh. Nel caso di Fritzbox si possono aggiungere fino a sei satelliti e se non vi bastano quelli c'è eventualmente anche l'uso delle powerline, quindi delle ulteriori estensioni di rete usando la rete elettrica. Se tutto questo non vi basta, c'è un altro dettaglio. Fritzbox è in grado di gestire anche le comunicazioni telefoniche, quindi il VoIP vi permette di collegare o dei semplici telefoni con il filo oppure degli apparati esterni che funzionano attraverso lo standard DECT. Sono dei telefoni molto intelligenti e possono addirittura sostituire un centralino perché all'interno di Fritzbox c'è anche una segreteria telefonica super efficiente. Se tutto questo non vi basta, quando arrivate dentro casa, il vostro smartphone si trasforma in un terminale di rete per la rete Wi-Fi e potrete rispondere alle telefonate che arrivano sul numero fisso anche dal vostro cellulare mentre siete sotto copertura Wi-Fi. Non vi basta tutto questo? Potrete collegare e controllare tutta la vostra rete Wi-Fi anche quando siete fuori da casa. C'è un ultimo dettaglio che vi vogliamo raccontare. Adesso c'è la possibilità anche di connettere i dispositivi di Smart Home, ancora una volta in un modo estremamente semplice ed estremamente efficiente e potrete poi controllare tutto direttamente dal menu di Fritzbox. Se però siete utenti che non vogliono alcun tipo di complicazione, se siete utenti che preferiscono cose molto semplici, molto facili da utilizzare, anche in questo caso non c'è problema perché Fritzbox ha una serie di assistenti all'interno del proprio menu che vi permettono ad esempio di configurare il modem per il vostro operatore semplicemente con due click. Insomma, questo è un sistema mostruosamente potente, non è una spesa, questo è un piccolo investimento per il futuro perché questo è un prodotto così potente, così carrozzato da essere destinato a durare nel tempo. Questo è un video realizzato in collaborazione con AVM ovviamente, ma come spesso vi diciamo non accettiamo questo genere di collaborazioni se non siamo convinti di quello che vi raccontiamo. E nella nostra vita di tutti i giorni noi usiamo un modem Fritzbox. È tutto, ci ritroviamo prestissimo su Mr. Gadget. Grazie. 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 Grazie.